il natale di martin tolstoi in una certa città viveva un ciabattino di nome martin alrievic lavorava in una stanzetta in un seminterrato con una finestra che guardava sulla strada da questa poteva vedere soltanto i piedi delle persone che passavano ma ne riconosceva molte dalle scarpe che aveva riparato lui stesso aveva sempre molto da fare perché lavorava bene usava materiali di buona qualità e per di più non si faceva pagare troppo anni prima gli erano morti la moglie e i figli e martin si era disperato al punto da rimproverare dio poi un giorno un vecchio del suo villaggio natale che era diventato un pellegrino e aveva forma di santo andò a trovarlo e martin gli aprì il suo cuore non ho più desiderio di vivere gli confessò non ho più speranza il vegliardo rispose la tua disperazione è dovuta al fatto che vuoi vivere solo per la tua felicità leggi il vangelo e saprai come il signore vorrebbe che tu vivessi martin si comprò una bibbia in un primo tempo aveva deciso di leggerla soltanto nei giorni di festa ma una volta incominciata la lettura se ne sentì talmente rincuorato che la lesse ogni giorno e così accadde che una sera nel vangelo di luca martin arrivò al brano in cui il ricco fariseo invitò il signore in casa sua una donna che pure era una peccatrice venne a ungere i piedi del signore e a lavarli con le sue lacrime il signore disse al fariseo vedi questa donna sono entrato nella tua casa e non mi hai dato acqua per i piedi questa invece con le lacrime ha lavato i miei piedi e con i suoi capelli li ha asciugati non hai unto con olio il mio capo questa invece con un guento profumato ha unto i miei piedi martin riflette doveva essere come me quel fariseo se il signore venisse da me dovrei comportarmi così poi posò il capo sulle braccia e si addormentò all'improvviso udì una voce e si svegliò di soprassalto non c'era nessuno ma sentì distintamente queste parole martin guarda fuori in strada domani perché io verrò l'indomani mattina martin si alzò prima dell'alba accese il fuoco e preparò la zuppa di cavoli e la farinata di avena poi si mise il grembiule e si sedette a lavorare accanto alla finestra ma ripensava alla voce udita la notte precedente e così più che lavorare continuava a guardare in strada ogni volta che vedeva passare qualcuno con scarpe che non conosceva sollevava lo sguardo per vedergli il viso passò un facchino poi un acquaiolo e poi un vecchio di nome stepanich che lavorava per un commerciante del quartiere cominciò a spalare la neve davanti alla finestra di martin che lo vide e continuò il suo lavoro dopo avvertato una dozzina di punti guardò fuori di nuovo stepanich aveva appoggiato la pala al muro e stava o riposando o tentando di scaldarsi martin uscì sulla soglia e gli fece un cenno entra disse vieni a scaldarti devi avere un gran freddo che dio ti benedica rispose stepanich entrò scotendosi di dosso la neve e si strofinò ben bene le scarpe al punto che barcollò e per poco non cadde non è niente gli disse martin sediti e prendi un poco di tè riempì due boccali e ne porse uno all'ospite stepanich beve d'un fiato era chiaro che ne avrebbe gradito un altro po martin gli riempì di nuovo il bicchiere mentre bevevano martin continuava a guardare fuori dalla finestra stai aspettando qualcuno gli chiese il visitatore ieri sera rispose martin stavo leggendo di quando cristo andò in casa di un fariseo che non lo accolse coi dovuti onori supponi che mi succeda qualcosa di simile cosa non farei per accoglierlo poi mentre sonnecchiavo ho dito qualcuno mormorare guarda in strada domani perché io verrò mentre stepanich ascoltava le lacrime gli regavano le guance grazie martin andrievic ne hai dato conforto per l'anima e per il corpo stepanich se ne andò e martin si sedette a cucire uno stivale mentre guardava fuori della finestra una donna con scarpe da contadina passò di lì e si fermò accanto al muro martin vide che era vestita miseramente e aveva un bambino fra le braccia volgendo la schiena al vento tentava di riparare il piccolo coi propri indumenti pur avendo indosso solo una logola veste estiva martin uscì e la invitò ad entrare una volta in casa le offrì un po' di pane e della zuppa mangia mia cara e riscaldati le disse mangiando la donna gli disse chi era sono la moglie di un soldato hanno mandato mio marito lontano otto mesi fa e non ne ho saputo più nulla non sono riuscita a trovare lavoro ho dovuto vendere tutto quel che avevo per mangiare ieri ho portato al monte dei pegni il mio ultimo scialle martin andò a prendere un vecchio mantello ecco disse è un po' liso ma basterà per avvolgere il piccolo la donna prendendolo scoppiò in lacrime che il signore ti benedica prendi disse martin porzendole del denaro per disimpegnare lo scialle poi l'accompagnò alla porta martin tornò a sedersi a lavorare ogni volta che un'ombra cadeva sulla finestra sollevava lo sguardo per vedere chi passava dopo un po' fide una donna che vendeva mele da un paniere sulla schiena portava un sacco pesante che voleva spostare da una spalla all'altra mentre posava il paniere su un paracarro un ragazzo con un berretto sdrucito passò di corsa preso una mela e cercò di svegnarsela ma la vecchia lo afferrò per i capelli il ragazzo si mise a strillare e la donna a sgridarlo aspramente martin corse fuori la donna minacciava di portare il ragazzo alla polizia lascialo andare nonnina disse martin perdonalo per amor di cristo la vecchia lasciò il ragazzo chiedi perdono alla nonnina gli ingiunse allora martin il ragazzo si mise a piangere a scusarsi martin prese una mela dal paniere la dia del ragazzo dicendo te la pagherò io nonnina questo mascalzoncello meriterebbe di essere frustato disse la vecchia o nonnina fece martin se lui dovesse essere frustato per aver rubato una mela cosa si dovrebbe fare a noi tutti per i nostri peccati dio ci comanda di perdonare altrimenti non saremo perdonati e dobbiamo perdonare soprattutto un giovane sconsiderato sarà anche vero disse la vecchia ma stanno diventando terribilmente viziati mentre stava per rimettersi il sacco sulla schiena il ragazzo si fece avanti lascia che te lo porti io nonna faccio la tua stessa strada la donna allora mise il sacco sulle spalle del ragazzo e si allontanarono insieme martin tornò a lavorare ma si era fatto buio e non riusciva più a infilare l'ago nei buchi del cuoio raccolse i suoi arnesi spazzo via i ritagli di pelle dal pavimento e posò una lampada sul tavolo poi presse la bibbia dallo scaffale voleva aprire il libro alla pagina che aveva segnato ma si aprì invece in un altro punto poi udendo dei passi martin si voltò una voce gli sussurrò all'orecchio martin mi riconosci chi sei chiese martin sono io disse la voce e da un angolo buio della stanza uscì stepanitz che sorrise e poi svanì come una nuvola sono io disse di nuovo la voce e apparve la donna col bambino in braccio sorrise anche il piccolo rise poi scomparvero sono io ancora una volta la voce la vecchia e il ragazzo con la mela apparvero a loro volta sorrisero e poi svanirono martin si sentiva leggero e felice presse a leggere il vangelo là dove si era aperto il libro in cima alla pagina lesse ebbi fame e mi deste da mangiare ebbi sete e mi disse taste fui forestiero e mi accoglieste in fondo alla pagina lesse quanto avete fatto a uno dei più piccoli dei miei fratelli l'avete fatto a me così martin comprese che il salvatore era davvero venuto da lui quel giorno e che lui aveva saputo accoglierlo tolstoi salvatore 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 salvatore